La stagione estiva positiva del porto di Pescara con la ripresa dei collegamenti da e per la Croazia non lascia dormire sonni tranquilli agli operatori portuali dello scalo pescarese che tornano così a richiamare l'attenzione sulla questione dragaggio del porto. Se l'attuale altezza dei fondali, poco meno di 5 metri, ha consentito con tutte le difficoltà del caso e di utilizzo di strutture d'appoggio obsolete di fare entrare in porto il Croazia Jet, la Galatea e pochissime altre navi di piccole dimensioni, secondo gli operatori portuali i lavori di dragaggio effettuati fino ad ora per un importo di 16 milioni di euro non sono sufficienti a riportare in piena attività lo scalo pescarese. Il traffico commerciale, scrivono in un comunicato gli operatori portuali, ha bisogno di fondali ad una profondità di almeno 6 metri e mezzo all'interno della darsena della banchina sud, in modo da poter attrarre traghetti, navi da crociera e imbarcazioni per i traffici industriali. Per questo, continua la nota, gli operatori portuali invitano gli amministratori pubblici a non perdere altro tempo e a farsi carico delle istanze che vengono da coloro che quotidianamente utilizzano lo scalo marittimo del capoluogo adriatico. La sollecitazione è rivolta a comprendere se e quando ci sarà un nuovo dragaggio e quali saranno i tempi di approvazione e di attuazione del nuovo PRP, il piano regolatore portuale. Queste azioni, concludono, sono l'unica garanzia per una ripresa delle attività e per scongiurare la chiusura definitiva delle attività rimaste ancora in piedi.